Ciao ragazzi, oggi è il 28 marzo 2014, sono passati dieci giorni dal mio venticinquesimo compleanno, che è stata una cagata pazzesca, ma... e sono a quattro mesi di terapia ormonale. Avrei voluto fare un altro video nel mezzo fra l'ultimo e questo, però sono in un periodo in cui sono sommerso da lavoro, quindi non tanto ce l'ho fatta, e quindi cercherò di fondere l'altro e questo, in un unico grande corposo video. Allora, partiamo dai cambiamenti. Non ho fatto un paragone con la registrazione della voce questo mese, però mi sembra che stia continuando a scendere piano piano, così a orecchio. La peluria si sta infoltendo, sembra che finalmente il mio corpo si sia accorto che mi sto facendo siringhe da un po', perché si sta infoltendo la peluria e... si stanno iniziando a ispessire i peletti qui sul mento, si stanno iniziando a infoltire un pochino i buff, si stanno iniziando. Lo dico da tre mesi che si stanno iniziando, però... forse... si vedo? Mi illudo? Non si vede? Pippa? Dovrei puntarmi tipo una torcia? Si vedono? Forse non si vede un cazzo, ma va bene così. La mia amica facendomi gli auguri al compleanno ha detto che pungevo, quindi... sì. Boh, non so se tagliare i capelli. Ah, mi sa che sto stampiando? Cioè, non ne sono sicuro, perché sono molto sottili e chiari, quindi... la mattina quando mi alzo è anche buio, quindi non riesco a vedere se ce ne sono sul cuscino. Però quando me li lavo, li vedo un po' cadere, me li trovo nell'asciugamano, cosa che prima magari non succedeva, e non sono sicuro, ma mi sembra che la linea qui stia un po' cambiando, boh, qua la vedo... mi sembra che sia un po' di meno qua. Eh... ho un po' paura. Niente, per il momento dovrebbe essere tutto qua, come cambiamenti fisici, però diciamo che rispetto al mese scorso inizio a notare veramente qualcosa, rispetto... sì. Accantonata la voce continua a fare alti e bassi. Eh... mi diverte sta cosa, non canterò. L'ho promesso, non canterò. E... passiamo alla parte in cui... eh... perché mi incarto? Passiamo alla seconda parte. Allora... Elisabetta Riccardo Vezzali mi suggerisce un argomento. Coming out è paragone dei rapporti con la famiglia prima e dopo. Allora... ehm... il mio coming out risale al... al Natale 2010? Possibile. No, non è possibile. 2012? No. 2011? Sì. Natale 2011, ci siamo. Eh... praticamente la vigile di Natale scrissi una lettera ai miei genitori, gliela lasciai sotto la porta della loro stanza e andai via. E in questa lettera cercai di spiegarli più o meno qual era la situazione, cos'era quello che sentivo e... boh, cercai di aprirmi un attimino perché non l'avevo mai fatto, non gli avevo mai parlato di nulla che riguardasse la mia sfera... privata, sentimentale, quindi... fu abbastanza difficile, però sentivo il bisogno di farlo un po' perché... ero finalmente... felice e... eccitato anche all'idea di aver trovato finalmente una risposta a tutte le mie domande che non mi ero tra l'altro neanche posto, però insomma ero finalmente... avevo finalmente la soluzione e quindi questa cosa mi accitava parecchio. Ehm... i rapporti con la famiglia... vabbè, dopo questo coming out che c'è stato via lettera... eh... tre anni fa... più o meno... non è cambiato niente, non è cambiato assolutamente niente, con mia madre ne ho parlato un paio di volte, con mio padre non ne ho parlato mai... finché... non è arrivato il momento in cui avrei dovuto iniziare a breve la terapia ormonale, quindi ripescai fuori l'argomento, questa volta a voce e... gli spiegai... vi ricordate quella cosa che gli scrissi... a Natale... beh, sappiate che fra un po' inizio con gli ormoni, quindi preparatevi... la loro reazione è stata molto positiva e... non sanno ancora bene come fare, cosa succederà, come affrontare il futuro, però... stanno provando a viverla con più serenità possibile... e... diciamo che i rapporti con mia madre e mia sorella magari sono cambiati di più, perché i miei genitori si sono separati un paio d'anni fa, quindi non abito più con mio padre, vivo con mia madre e mia sorella... e con lui, diciamo, vedendoci poco, solamente praticamente al lavoro, non è che sia cambiato chissà cosa, anche perché non è che fossi proprio il prototipo di figlia... e quello con mio padre, in fin dei conti, è sempre stato quello che più... canonicamente risulta essere il rapporto padre figlio. Comunque, invece, con mia madre e mia sorella sono... sono un po' cambiati, ma perché sono più... più... più sereno io e... più... più leggero proprio, non ho più... pesantezza d'animo, cioè non devo più nascondere, inventare, fingere soprattutto... loro mi conoscono adesso per quello che sono veramente e quindi è tutto più semplice, è tutto più leggero... non so, magari mi sono anche un po' avvicinato a mia sorella... perché... boh... forse è solo perché sono più sereno... tutto qua... poi... Silvietta Tommy, invece, mi suggerisce l'argomento sessualità... migliorata o semplicemente cambiata? I tuoi gusti sono alterati? Questo più che un argomento è una semplice curiosità... sorriso... Allora, la mia sessualità è cambiata? Non so se sia migliorata? Sì, no, è anche migliorata... è sicuramente cambiata... E... è cambiata... da... da subito... Praticamente... per quella che è la mia esperienza... da donna... il sesso... per me... era qualcosa di molto mentale... era un... un desiderio prima di tutto mentale... Invece, da quando sono in terapia ormonale... fa quasi impressione a chiamarlo bisogno... però è una pulsione molto più fisica... Cioè, se prima il desiderio ti veniva dalla testa... era tutta una cosa mentale... tutto un processo... che partiva di qua... Adesso, invece, è una cosa che... sì, c'entra anche la testa... però... lo sento più fisico... come... come... come desiderio... è più una cosa veramente carnale... Migliorata... migliorata perché... essendo... boh... una cosa più... fisiologica quasi... a sto punto... è migliorata perché... soddisfa un... un... un mio bisogno... diciamo... E quindi... non è più... tutta una cosa mentale... e quindi... altre pippe che si vanno a... a sovrapporre... per quello che invece il corpo è una cosa... tu invece lo vuoi fare... e... magari è più semplice... E... i tuoi gusti sono alterati? Gusti merita a cosa? E... sessuali no... non sono alterati... e... boh... Sto registrando... Stai friggendo i panzerotti... beh... allora... mia sorella sta friggendo i panzerotti... è stato bello... vedervi... sentirvi... tutto quanto... ci vediamo la prossima volta... Se volete che parli di qualcosa in particolare... Fate come Elisabetta... no... come... anche come i panzerotti... magari vi faccio sapere come sono venuti... Fate come Elisabetta Riccardo Vezzali... o come Silvietta Tommy... Scrivete un commento da qualche parte... e magari la prossima volta ne parlo... quindi... Ciao... Ciao...